Bene, quindi dopo la fine della dimostrazione il campo è aperto, quindi è possibile avvicinarsi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adesso ti faccio vedere il vassoio da dove vengono, ok? Lo vedi tu? Prima, quindi, trovarsi nella situazione, diciamo, favorevole vorrebbe dire, diciamo, essere con... ...però, questo vuol dire... ...testimonianza... ...però che era una roba, una cosa...